Ho appena scoperto che è un castello Quindi non so dove mi portano E ho il tutta la prima volta che abbiamo il sole All'estate in casa Lui è più emozionato del sole All'estate in casa Vabbè vabbè Quella è un'emozione Non dice troppo Ormai ci siamo Mancano pochi secondi Alla scoperta Ciao buongiorno Ma pensavo fosse vero per un attimo Allora praticamente tutto il tema medievale Hanno parlato anche di combattimenti Però ancora che non c'è nulla Adesso è un percorso fidesco Fransi È tutto a tema medievale Percorso fidesco perché ci sono io Che sono il fauno del posto La fauna È la fauna Considerate che io qui non avevo la più pallida idea Di dove mi trovassi Ma letto castello Ho iniziato a farmi qualche domanda in più Fino a che è arrivato lui poi Per imparare a usare la catapulta A farlo Dovresti considerare almeno due cose La distanza E il vento Nel percorso fatato è stata raccontata la più classica delle favole a tema medievale Con cavalieri, streghe e orchi Ma poi c'era lui che ci ha fatto scompisciare dalle risate E' stato indubbiamente uno spettacolo per bambini Però come potete vedere Come potete sentire le risate Anche noi adulti ci siamo divertiti davvero tantissimo Ma non è finita qua E la cosa bella è che i bambini hanno dovuto prendere parte al combattimento e alla favola Molto più da cavaliere L'esperienza finita e abbiamo... Bambini, come è stato a combattere la strega? Molto più bella Ma ti avevi un po' paura? Molto più bella Lei invece è il cavaliere, uno dei cavaliere più importanti di tutti Sì, è andato per prima l'orco È parte dell'orco Vabbè, bello l'orco, bella la piazza Ma... C'è una fagna Volendo per mangiare potete prenotare un sacchetto da fare in comodo picnic lì dentro il parco Ma noi abbiamo scelto di mangiare al ristorante e non ce ne siamo assolutamente pentiti Gnocchi fritti e caramelle piacentine Oh, abbiamo fatto anche la scarpetta E ora visita il castello Perché sì, siamo all'interno di un castello, il castello di Gropparello Io non avevo mai sentito parlare, eppure a quanto pare è famosissimo Nelle storie in tantissimi ci avete detto di conoscerlo Addirittura chi l'ha segnato nei posti da visitare Ma per gli ignoranti come me cosa ne dite? Facciamo un ripassino? Il castello di Gropparello è una rocca fortificata che trovate in provincia di Piacenza Un castello che lascia bocca aperta, costruita a strapiome in un canyon naturale Scavato dal fiume Bezzeno Che incarna l'immaginario del castello fiabesco Con draghi, cavalieri e principesse La storia qui è tanta E luogo da vita fiabe e misteri che vivono ancora oggi Oltretutto è mantenuto davvero bene E non dimostra i suoi 1300 e più anni Una torre sotterranea, stanze regali e un ponte elevatoio Fanno da cornici ad un gioiello tutto italiano A me piacciono un sacco queste cose Qui inoltre organizzano numerosi eventi Come cene con delitto, mercati medievali Festa dell'uva, parti di una notte di mezz'estate Notti delle streghe E chi più ne ha più ne metta Noi ora abbiamo preso parte di una visita guidata nel castello Per scoprire tutti i segreti e il nostro Cicerone Beh, che ve lo dico a fare Anche lui ci ha fatto vivere un momento davvero immersivo Oh, segnatevi il castello di Grupparello su Google Maps Merita di organizzarci un weekend qui Ma dove l'ho portato? Oh, ma dove li ho portati? Perché poi da regalo per papà In realtà sarebbe stato un regalo per tutti Perché a parte la vista, vabbè, spaziale Papo, ti è piaciuta la gita? Dove sei? Questo qua perché mi hai messo contro luce Contra il sole Ah, ecco Bello, bellissimo Tu ci hai fatti lasciare la torre Per quattro ore Per fare soltanto foto e video Siamo scesi per ultimi E adesso ci daranno per rispersi Andiamo Per fare soltanto foto e video Per fare soltanto foto e video